Si va verso lo scontro tra Regione Abruzzo e Ministero della Sanità. La causa? Il verbale del tavolo di monitoraggio sull'applicazione del DM70, cosiddetto decreto Lorenzin, che dovrebbe ridisegnare la rete ospedaliera regionale destinando alla nostra regione un unico DEA di secondo livello, Pescara, ovvero un superospedale con all'interno tutte le specialità più importanti. Il Ministero non ha accolto l'idea di quattro DEA di primo livello nei capoluoghi di provincia, ma sarebbe orientata per i soli nosoccomi di Pescara e L'Aquila, ad alzare la voce il capogruppo forzista in Regione Abruzzo, Mauro Febbo, per cui va garantita un'adeguata assistenza sanitaria in tutte le aree del territorio regionale. Dopo due anni di pandemia, quindi di una richiesta di assistenza diversa di quella di due anni fa, credo che il mondo sia cambiato, noi abbiamo presentato una rete sanitaria che risponde alle esigenze dell'Abruzzo, stando attenti a non uccidere, a non fare richieste che non avevano i piedi per camminare, e quindi sempre nel rispetto di quella che è una buona gestione e sana gestione. E stranamente a Roma questo lavoro ci è stato fortemente contestato, tornando indietro, tornando al famoso decreto Lorenzin, un decreto oramai datato, superato, si sta parlando anche a livello nazionale di modificarlo, e questo chiaramente per noi non è pensabile di accettare, non è pensabile nei confronti di un territorio come una morfologia particolare che questi signori non tengono conto. Noi abbiamo tenuto conto di tutto questo, quindi la nostra proposta, che peraltro abbiamo, ripeto, già modificato rispetto ad alcune indicazioni che loro ci avevano fatte, è una proposta che verrà portata in Consiglio regionale. Sarà tramutata in legge, la depositeremo al Ministero e cominceremo una trattativa. Io credo che questo sarà il primo governo regionale in 50 anni che fa una rete sanità al coraggio di fare una rete ospedaliera.